Mamma mia ragazzi, sono mancato dal 18 agosto ad oggi, stamattina sono tornato, oggi è 4 settembre, la mia sedia crolla dalla notizia che vi sto per dare, non regge neanche la sedia ragazzi, quindi ho programmato dei video dal 18 agosto al 3 settembre, oggi non è uscito ancora niente, questo è il primo video della giornata. Diciamo che dal 18 agosto al 31 agosto non c'ero, avevo programmato un video al giorno, andiamo a vedere il dato di guadagno di agosto, il mio canale ha fatto il record dei record, chi mi segue lo sa porto aggiornamenti ogni mese sulla monetizzazione di questo canale, perché io in questo canale, chi mi segue lo sa parlo di business online, ho un business online dalla fine del 2016, lavoro nella musica, sono Michele Maraglino, c'è il mio canale Michele Maraglino Musica dove vendo infoprodotti e consulenze per musicisti, marzo 2022 apro questo canale YouTube dove racconto tutta la mia esperienza al lato business, tutto quello che ho imparato nel vendere video corsi, nel fare video su YouTube, nel vendere attraverso i video, nel marketing, nella pubblicità online, tutti questi temi, negli investimenti, tutto gratuito su questo canale, in 9 mesi abbiamo attivato la monetizzazione, ora c'è un risultato incredibile. Ad agosto dove per metà mese stavo al mare, pazzesco, ho semplicemente programmato un video al giorno dal 18 al 31, gli altri giorni ho lavorato, credo forse sì, non lo so, comunque agosto ragazzi, un mese in cui gli YouTuber là fuori dicono, eh riduciamo la cosa, tanto non guardate i video, porca miseria, 1592,99 euro di entrate ad agosto, ma di che stiamo parlando? 98.514 visualizzazioni, 12.214 visualizzazioni in più del solito, ok? In questo mese, agosto, le ore di visualizzazioni, sempre 1599 in più, e poi 1249 iscritti ad agosto, ma il dato 1592,99 euro è impressionante, per un canale che è online da un anno e cinque mesi, ok? Non ha neanche un anno e mezzo questo canale, è nato nel marzo del 2022, siamo ad agosto diciamo, siamo a settembre, però i dati ovviamente non è stato tutto subito così, chi mi segue lo sa, siamo partiti per nove mesi, non abbiamo guadagnato niente, poi 27 euro, poi 200, poi 300, poi 600, poi 1100, 900, 1100 e poi 1592,99, solo dalla monetizzazione, chi mi segue lo sa che poi da qui, eh praticamente, eh ci sono tantissimi altri guadagni, YouTube è il business che io consiglio, ma lo dovete fare con la testa, eh perché praticamente questi sono risultati fuori dal comune, ok? Vi ricordo, c'è il mio programma per chi vuole guadagnare con YouTube, sia mettendoci la faccia, che non mettendoci la faccia, volendo aprire un cash cow channel, andate su Marrakesh, su cash.michelemananico.com perché c'è il mio programma Marrakesh dove io vi seguo personalmente nel lancio del vostro canale YouTube e vi trasmetto lo stesso mio metodo che mi ha permesso di arrivare a guadagnare 10.000 euro al mese, più di 10.000 euro al mese, e questo è un dato che andrà sempre di più, ragazzi, a crescere, in soli 15 mesi, perché 10.000 euro li ho fatti in 15 mesi, perché tra la monetizzazione che si è attivata e diciamo che intorno al dodicesimo, tredicesimo mese è diventata, dai, interessante dai 1.000 euro in su, ma nel frattempo avevo raccolto affiliazioni, partnership, collaborazioni, agenzie che mi mandano, mi pagano per fare video, per parlare dei prodotti dei loro clienti, io, aziende che mi contattano personalmente, per cui vengo pagato per fare dei video, alla fine un canale che non ha neanche 10.000 iscritti riesce a fare più di 10.000 euro al mese. Come? Ve lo spiego in Marrakesh. Andate, ci sono gli ultimi due posti, ragazzi, sto schedulando tutte le consulenze, sono veramente pieno, gli ultimi due posti, è un programma che praticamente mi permette di lanciare il vostro canale YouTube, seguiti personalmente da me. Consiste in due ore di consulenza dal vivo, io vi spiego tutto, cerco di capire quale nicchia migliore è per voi per aprire, diciamo, il canale YouTube, quale argomento, perché poi voi dovete perdurare nel tempo, non dovete aprire e chiudere, YouTube è un percorso lungo, vi tolgo tutti i paradigmi sbagliati che avete sul canale YouTube, sui YouTuber che ci vogliono milioni di iscritti per fare i soldi. No, stiamo parlando di un business che nel giro di 15 mesi vi può portare a fare 10.000 euro al mese da zero, trovatemi un altro business così, andate su cash.michaelemaralino.com, ci sono gli ultimi due posti, avete due ore di consulenza dal vivo con me, il corso completo YouTube Secrets dove c'è tutti i segreti sulla SEO che io utilizzo proprio per avere visualizzazioni, per crescere di iscritti, per diventare popolare, sia anche come trovare i video, come fare i video, ci sono tutorial, passo passo, come sfruttare l'intelligenza artificiale per chi vuole fare i Cash Cow Channel, una bomba, da come scrivere il titolo nel modo giusto, come scrivere la descrizione, i tag, come mettere, proprio pratico, ma anche come aprire il canale per chi parte da zero. Tu, la prima cosa che devi fare è guardarti il corso YouTube Secrets, quando compri Marrakesh, vai sul link in descrizione, vai su cash.michaelemaralino.com, ti guardi tutto, lo compri, ti arriva subito il corso, te lo guardi, poi fai la, scheduli la consulenza con me, ci facciamo due ore dove tu sai, sei già preparato, hai visto il corso e sai proprio come fare praticamente le cose, caricare i video, realizzare i video, pubblicarli, editarli, come mettere i titoli, le descrizioni, tutto in modo corretto. Nella consulenza vediamo quale argomento migliore per te, quale opportunità ci sono di business per quell'argomento, oltre appunto alle visualizzazioni, ma parliamo di aziende, di che cosa puoi mettere in descrizione, come fare subito video che vendono, come creare dei contenuti attorno a delle opportunità di guadagno, perché noi vogliamo trarre il massimo profitto da YouTube, quello che faccio io è sfruttare YouTube per estrarre il massimo profitto, sia da YouTube stesso che dalle opportunità che YouTube ti dà, perché ti rende visibile, come cresce il suo YouTube, veramente, nelle consulenze ti spiegherò come fare i video che poi macineranno via e ti faranno conoscere, quindi a trarre altri soldi, una bomba, c'è una versione poi premium di Barakash dove hai già quattro video pronti, dopo che ti sei visto il corso, dopo che abbiamo fatto la consulenza, quindi ho capito dove stai andando, quale canale aprirai, sette giorni dopo la consulenza farò preparare dal mio team quattro video, questo è per chi vuole fare un Cash Cow Channel, ovviamente, il Marrakesh premium, avete anche quattro video pronti, professionali, più lunghi di dieci minuti, così potete partire col botto, andate su cash.michelmaranino.com, restano veramente gli ultimi due posti, perché sono full, è andato a ruba, purtroppo, cioè purtroppo, è un programma di affiancamento, non posso seguire persone, cioè c'è un tetto massimo di persone che posso seguire ogni mese, per settembre siamo già full, non so, probabilmente riapriremo, non so quando, dopo settembre, d'ottobre, inoltrato, quindi se ti interessa partire adesso, prenditi gli ultimi due posti, vai su cash.michelmaranino.com, ho il link in descrizione, c'è tutta la pagina di vendita, ti spiego, leggitela tutta e poi acquista, mi raccomando perché sono gli ultimi due posti. Vi voglio far vedere una roba, vi voglio far vedere una roba, se io vado su Entrate, vi voglio far vedere che, oh, ad agosto, siamo sempre dal 1 al 31 agosto, un RPM di 20,23 euro, cioè, l'RPM cos'è? Sono quanto ti paga YouTube per mille visualizzazioni, mi paga 20,23 euro, e probabilmente continuerà a crescere questo dato. È pazzesco, questo perché la nicchia business, investimenti, trading, quello che parliamo in questo canale, è molto pagata ed è molto, molto, molto interessante. Vedete, agosto, vedete, luglio, ho fatto 9,74 euro, e da giugno, diciamo che siamo sopra i 1000 euro di media, ma, quindi giugno, luglio, ma agosto c'è stato un'impennata pazzesca. Iscrivetevi al canale se volete continuare a seguire, diciamo, questa serie dove vi porto i risultati di questo canale. Se volete anche voi aprire un canale del genere, sia se mi volete metterci la faccia o aprire un Cash Cow Channel, andate su cash.michellemaralino.com Ci sono gli ultimi due posti, vi aspetto dall'altra parte. Iscrivetevi, commentatemi, fatemi sapere se questi risultati, secondo me, sono fuori dalla comune. Ciao!